buongiorno a tutti amici amici di mistero sport e blogger so che non so che non sono fare video prepartito video motivazionali video tutto quello che è ma oggi oggi sento una necessità perché oggi caro milan c'è da vendicare una vergogna c'è da vendicare uno schifo di partita che avete fatto all'andata contro l'atalanta c'è da vendicare un 5 a 0 e gasperini deve ringraziare il dio che non ci sono i tifosi perché se va come penso io che facciamo l'impresa gli vomitiamo schifo gli avremmo vomitato a quell'uomo di m perché gasperini sta regalando indignità in negativo compresa la rite combinato ma io voglio vendicare quel 5 a 0 dell'andata e non mi interessa se qualcuno grazie a me vincerà il 36esimo scudetto non me ne frega un cazzo non me ne frega un cazzo io voglio vendicare l'onta della vergogna quindi cari giocatori del milan oggi per caricarvi non serve guardate quella partita guardate quando avete fatto schifo e non c'era ibra adesso avete la possibilità anche se rimaneggiati di vendicarvi di vendicarvi e anche se sto 3 4 a 0 magari non mi devo ferma non mi devo ferma come non si è fermato gasperini che si divertiva in quella giornata di bergamo quindi ricordatevi l'immondizia che avete fatto la vergogna che ci avete fatto provare lo schifo il senso di vergogna la disperazione le lacrime che ci avete fatto versare in quella schifosa partita di andata beh oggi potete vendicarla potete non dico cancellarla ma almeno accandonarla perché la stagione comunque resta negativa alla somma totale perché non basta fare un mese buono per cancellare le vergogne precedenti però però si attenuano si tra virgolette si accandonano si spostano quindi oggi cari giocatori del milan vi chiediamo una prova di palle una prova di aggressività una prova di vendetta ormai in europa ci siamo gironi o preliminari non lo sappiamo ma in europa ci siamo ma non mi interessa io voglio vendicare quella vergognosa partita voglio che vi togliate anche una soddisfazione di restituirgli qualche gol a quelli là solo per sfizio solo per dimostrare non c'era ibra che li potete battere perché noi siamo il milan nonostante tutto nonostante tutte non c'è un 5 a 0 a distruggere il milan fatevi capire che i 5 a 0 le vendette le grandi squadre se le prendono se le prendono non mi importa che qualcuno vince lo scudetto grazie a me io voglio vedere casperini con la coda fra le gambe uscire da san zero vuoto lo voglio ve lo chiedo anche se siete rimaneggiati fateci questa gioia perché quello merita di prendere una scoppola per abbassare un po le orecchie visto che si è montato la testa quindi diamoli un bel servito vendichiamoci vendichiamoci anche se serve a poca una consolazione non conta niente io voglio vincere con l'atalanta stasera voglio vincere anche vincere bene senza fermarmi sei a zero vorrei oggi e vi bacio uno a uno venga a milanello e vi bacio uno a uno ma dovete farlo almeno se dovesse andare male perché è possibile date tutto non lottate fino all'ultima goccia di sangue che avete in quel corpo da uomini se siete uomini e c'è zio a spronarvi uno che uno che in braio vi c'è riluttante alle figure di merda quindi date tutto sennò quello vi sfregna quindi date tutto quello che avete poi vediamo come va ma dovete fargliela sudà e se potrebbe andare male date tutto ma provate ribadisco ancora vendicare quel 5 a 0 vergognoso del giorno in andata siamo tutto un altro milan lo abbiamo dimostrato ora ci vuole la ciliegina ci vuole strapazzare vincere l'atalanta ma non un a zero perché un a zero non mi basta io voglio vederli con la coda fra le gambe voglio vederli veramente che si devono ricredere che non siamo più quel milan asfaltato da tutti quindi è ora di dimostrare perché noi siamo sempre costretti a dimostrare a noi milanisti non ci legara niente nessuno ce li andiamo a prendere beh andiamo ce l'apprendere questa vendetta se vi è piaciuto questo video iscrivetevi anche al canale di mister lo sport e blog ciao a tutti